Fate caso, quando noi parliamo di un viaggio nel tempo, il più delle volte intendiamo un viaggio nel passato, no? Facciamo un viaggio nel tempo, lo so, andiamo in Grecia, facciamo un viaggio nell'antica Grecia, no? E recuperiamo, ecco, un viaggiare nel passato. No, quello che io vi propongo è questo, di pensare al viaggiare nel tempo anche, e in questo caso per noi soprattutto, nella dimensione del futuro. Trovo, mettere il piede nel futuro, no? Del resto, anche il viaggiare nel passato, poi alla fin fine, è pur sempre anche un andare, appunto, anche lì in tutto sommato, no? Verso il futuro. Ecco, andare cioè non verso ciò che è stato, ma verso ciò che non è ancora. ecco qui, appunto, la dimensione che adesso viene fuori del rischio. Cioè, il rischio dov'è? Il rischio è, appunto, nel futuro. Il rischio è strettamente connesso al futuro. Il rischio non è qualcosa di presente, perché quello che è presente è già successo. Il rischio è una componente che ha a che fare esattamente con il futuro. È il voler andare verso il futuro ciò che determina, appunto, il rischio, ciò che fa apparire, fa emergere il rischio. Mary Douglas, un'antropologa inglese, ha scritto dei libri molto interessanti, appunto, sul concetto di rischio in relazione alla cultura umana. La cultura umana è da intendere, allora, si può intendere in tanti modi diversi, dal nostro punto di vista noi la possiamo intendere come un modo di organizzare il rischio. del tipo, a quali rischi pensiamo di poter andare incontro? Quanto futuro vogliamo imbarcare nel nostro presente? Non so se mi spiego. Cosa significa, cos'è per lei il significato di rischio? Una sua interpretazione? Eh, sì, non me l'aspettavo questa domanda, in effetti, anche se per tutto il giorno abbiamo parlato di rischio. Ma, intanto, per cominciare, rischio comporta consapevolezza. Cioè, la dimensione coscienza è indispensabile. Cioè, voglio dire, uno avverte il rischio, ecco, se non lo avverti, il rischio non c'è. Quindi, cioè, è consapevolezza di... Consapevolezza o avvertimento. Avvertia. Come dire, anche avvertire in maniera sub... Però, insomma, siamo in quella... Siamo in quest'area. In quest'area. In questo contesto. Ecco, qui, questo. Consapevolezza di che cosa? Di un pericolo, di un possibile pericolo. Ecco, il rischio lo definirei in questo modo, ecco. C'è una quantità di futuro. Il futuro non è tanto futuro, poco futuro. Una società molto tradizionale cerca di ridurre il futuro. No? Una società tradizionalista cerca di ripetersi. In modo tale che il futuro, che lo tamponiamo, lo riduciamo. Oppure, al contrario, una società che si apre. Ovviamente non ci sarà nessuna società che riesca ad abolire il futuro, così come, suppongo, non c'è nessuna società che riesca ad aprirsi totalmente al futuro. Si tratta di barcamenarsi. Ecco, allora, per gli antropologi, che seguono appunto le indicazioni di Mary Douglas, si tratta appunto di studiare le modalità culturali. Agli psicologi le modalità più individuali. Le modalità culturali con cui una determinata società appunto organizza tutta questa problematica, che è una problematica imprescindibile. Il rischio è una dimensione antropologica imprescindibile. È presente nella nostra società, ovviamente, così come io mi ero sforzato di farvi vedere, è presente anche in quella minuscola società che è appunto Ticopia. Ma per generalizzare, per generalizzare ancora a livello appunto antropologico, diciamo pure che la specie umana è una specie molto rischiosa. Nel senso che l'uomo ama molto il rischio e proprio perché è una specie culturale. Proprio perché è una specie culturale. Dire cultura significa dire scelta. Su questo gli etologi sono perfettamente d'accordo con gli antropologi. Vuol dire scelta. Vuol dire, cioè, possibilità. Ciò che non c'è ancora. Eccolo qua il rischio. Allora, noi siamo una specie che ama il rischio. Ama molto il rischio. Muoversi o non muoversi? Secondo lei ci sono delle situazioni in cui è meglio stare fermi? Sì, indubbiamente. Quali? Per esempio, non lo so, posso dirlo in... Ecco, io sono abbastanza convinto che noi dovremmo smetterla di crescere. Economicamente, tecnologicamente. Lo so di dire una cosa... In eresia. Però sono abbastanza convinto che, come dire, stiamo mettendo a rischio veramente non solo noi stessi ma un po' l'ecosistema. E questo è qualcosa che va veramente pensato. Io credo che mettere dei freni, se non addirittura bloccare, se non addirittura retrocedere. Grazie.